Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo del nuovo scarponcino a trekking di Decathlon modello MH500. Questo scarponcino mi ha tanto sorpreso in positivo quanto in negativo. Adesso noi vediamo pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo come al solito dal peso. Taglia 43 di questo scarponcino, pesa 490 grammi. Nel mio 47 arriviamo a 580. Pessendo uno scarponcino mid il peso ci sta. È congruo, simile a tanti altri della stessa categoria, quindi come peso ci può stare. Iniziamo come al solito a parlare della suola di questo scarponcino. Qui troviamo una suola proprietaria di Quecia chiamata Outdoor Contact. Una suola che è veramente molto grippante. È la parte che più mi è piaciuta di questo scarponcino. Vi assicuro che ha grip su quasi tutte le superfici, l'unica dove dovremo fare abbastanza attenzione in caso di roccia bagnata o particolarmente liscia. In quel caso il grip lascia un po' a desiderare. Ma per tutto il resto, per quanto riguarda anche fango, terriccio, erba, eccetera, mi ha stupito. Mi è piaciuta veramente tanto. Questa suola ha dei tasselli belli pronunciati, belli grossi, belli alti. Questo le garantisce, come dicevo, un bel grip e poi mi piace tutta la parte anteriore e posteriore dove Quecia ha messo un inserto bello grippante per aiutarci nel momento in cui spingiamo per fare il passo o atterriamo quando l'abbiamo appena finito di fare. Quindi, bella. La suola davvero è la parte di questo scarponcino che mi è piaciuta di più. Passiamo ora a parlare dell'intersuola. Un'intersuola abbastanza generoso per essere uno scarponcino da trekking. Sul tallone si vede che è veramente molto alto. Un'intersuola in eva che, vi assicuro, ci dà modo di poter fare delle escursioni molto lunghe. Io questo scarponcino l'ho utilizzato per un'escursione di una decina di ore e quando sono tornato alla macchina, vi assicuro, non avevo le gambe distrutte. Quindi, molto buona, molto molto buona. Unico neo, quando prendiamo i sassi, li sentiamo abbastanza perché comunque è molto flessibile come scarponcino, quindi non ha una grandissima protezione dai sassi. Continuiamo e arriviamo a parlare della tomaia, che è la parte che mi ha lasciato un po' così e così. Iniziamo dal puntale. Un puntale molto morbido, davvero molto morbido. Un puntale che se dovessimo prendere dentro contro una roccia, la botta la sentiamo, la sentiamo bella forte. Quindi avrei permesso di un puntale un pochino più duro per proteggerci di più. Mi piace, invece, tutta la parte di tomaia che arriva fino a metà piede fatta in materiale plastico sulla punta perché così dà modo a tutto il resto della tomaia di non andare a distruggersi e gli offre un'ottima protezione da tutto quello che possiamo trovare all'esterno. Continuando, questa tomaia è praticamente divisa in tre. Abbiamo la sezione centrale che è fatta in pelle scamosciata. Fatta in pelle scamosciata, che è una pelle che tende a consumarsi abbastanza. La mia è bella consumata, nonostante comunque come scarponcino. Non è che ci abbia fatto migliaia di chilometri. E questa pelle gli dà anche una pessima traspirabilità. Io vi assicuro, ho utilizzato questo scarponcino in giornate primaverili. Sono trovato una macchina che aveva il piede che sudava abbastanza. Quindi questa pelle non mi ha convinto. Non mi ha convinto. E continuando, invece, dal metà piede in su torniamo ad avere materiale in mesh. Quindi un materiale che risulta essere molto più traspirante. Un materiale comunque abbastanza resistente. In confronto è più traspirante la parte superiore di questo scarponcino di quella a metà piede. Quindi, non lo so. Questa parte di pelle scamosciata davvero non mi ha convinto. Siccome se non ci fosse stata, sarebbe stato meglio. Per quanto riguarda la tomaia, il livello di impermeabilità, ci siamo. Nessun problema, lavora bene. Dovessimo passare all'interno qualche ruscello, non abbiamo problemi. Per quanto riguarda l'impermeabilità, lavora molto bene. Per quanto riguarda poi arrivare fino alla zona del tallone. Un tallone abbastanza strutturato nella parte inferiore, che tende ad essere molto più morbido pian piano che saliamo sul collo. Un tallone che, sì dai, diciamo che comunque svolge bene il suo lavoro, perché non ci fa prendere storte. Come dicevamo, altezza mid, quindi arriva sotto il malleolo, facendo sì che riusciamo a camminare molto bene, senza sforzare tutta la caviglia, con una comunque buona protezione. In generale, sì dai, il tallone mi è piaciuto, le storte non si prendono. E del tallone mi è piaciuta anche tutta l'imbottitura. Un'imbottitura veramente molto confortevole. Un'imbottitura che, una volta inserito il piede all'interno, vi assicuro farà sì che il nostro piede calzi alla perfezione e non abbia nessun problema di vesciche o punti di pressione. Quindi, tallone mi è piaciuto. Continuando, arriviamo a parlare poi tutta la zona dei lacci e della linguetta. La linguetta è probabilmente la cosa che meno mi è piaciuta di questo scarpone. Non ha problemi che si muove o che... Il problema è che l'hanno fatta veramente molto molto sottile, e quindi quando andiamo a stringere i lacci, soprattutto se li stringiamo molto forte, vi assicuro che la pressione dei lacci si sente sul collo del piede. E soprattutto quando camminiamo in discesa, e anche un po' in salita, fa male. Quindi, secondo me, andava messa una linguetta decisamente più classica. Oltre ciò, la linguetta poi è veramente molto larga e nella parte finale va a dare un pochino fastidio se andiamo a stringere molto i lacci. Visto che ve li citavo, parliamo dei lacci. Il laccio classico, tondo, lavora molto bene. Non mi è piaciuto del laccio, però il passalaccio, perché nella parte superiore tende a uscire. Cioè, anche se noi camminiamo tranquillamente, pur avendo stretto tanto lo scarpone, il laccio scappa via e saremo costretti a fermarci e a doverla riallacciare. Quindi, non lo so. Poi sono fatti anche in plastica, avrei preferito averli in metallo. Ma questa allacciatura non mi ha convinto tanto. Per quanto riguarda poi la grandezza dell'avampiede, questo scarponcino non è né stretto, ma nemmeno largo. È pensato, per far sì che quando noi camminiamo dopo tante ore il piede dovesse allargarsi allo spazio necessario senza andare a stringersi sulla tomaia, diciamo che è pensato molto bene e per questo scarponcino sicuramente non c'è bisogno di andare a prendere una taglia in più. Arriviamo alle conclusioni per questi Decatron Quechia MH500. Vengono venduti a un prezzo di 80€. Probabilmente è uno degli scarponcini sul mercato più economici. Ve lo consiglio... Nii. Diciamo che va trovato a un uso molto particolare per questi scarponcini. A livello di terreno sicuramente possiamo usarli un po' ovunque. Io ve li consiglio come scarponcini prettamente per le mezze stagioni, quindi primavera-autunno. Sicuramente poi non dovete essere persone che stringono tanti lacci perché sennò questo lo sentirete sulla caviglia. Diciamo che... Allora, il mio consiglio è provateli. Provateli. Se nel metterli su non avete problemi per quanto riguarda la linguetta, allora potreste anche trovarvi bene. Sicuramente, come vi dicevo, non destate perché la traspirabilità non è per nulla buona. Ci sono dei modelli che magari spendendo un pochino di più hanno delle performance migliori. Ma considerato il loro prezzo, non penso che ci siano degli scarponcini a livello proprio economico che possono dare queste prestazioni. Detto ciò, ragazzi, io nella speranza di essere stato esattamente esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!